Produrre energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare da solare, dove non c'è materia prima, la materia prima è il sole, è possibile ed è conveniente. Ed è conveniente anche oggi, anche se nel 2013 sono finiti gli incentivi. Si può produrre energia a prezzi più convenienti che acquistarla dai distributori, purché la si autoconsumi. L'Italia ha bisogno di energie rinnovabili? Certamente sì, e quello che è importante è che già oggi l'Italia, questo è un primato italiano, è prima al mondo per produzione di energia solare rispetto al consumo energetico annuo. In Italia l'anno scorso l'8% dell'energia elettrica consumata proviene da solare, in altri paesi al massimo il 3%. Le rinnovabili sono da considerare un bene comune? Il solare è la regina delle rinnovabili? Il solare è la regina delle rinnovabili perché l'energia viene dal sole, il solare, come è stato giustamente detto nel convegno, ripropone la fotosintesi clorofiliana, dal sole viene fuori l'energia. Il solare è la regina delle rinnovabili?